musica 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 quindi abbiamo 3 3 4 musica 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 ho fatto l'audio e boba quindi abbiamo il nostro match tra Raraka e Satra e qua anche bellezza con la mia faccia ma che si quindi abbiamo questi due giorni stanno spiegando questo è tutto il link contro il caffè andiamo ancora a passare un po' noi ok chiaramente ok eccoci aspetta mi convince ancora andiamo così ok diciamo Luca scontro questo pick da parte di fra Raraka quanto è risaputo che fra Raraka non riesce a battere ultra beh effettivamente l'ultima volta ci ha perso che frega non ci frega niente so benissimo che hai il trauma ma ora così come Gena ha preso il cazzo dell'anze è così max no è un problema con rogue non è un problema di personaggi no è un problema non è un personaggio però voglio che labia eccoci qua con questo match che palla quanto dura però ho finalmente si è schiattato quindi 1 a 0 per il signor Fragato grazie per questo hanno indotto fare da H ho già messo un'altra volta è un'altra volta C'è un altro magico che è switch da parte di pittata Bomba fair originale Wow, prende la bomba e la richiede Cogliore Cogliore Ho preso mentre non lo lavo E la sposa di merda di prasso F-smash sui bootcranks Scassiamo qualche cazzo di legno Eh? Beh, sarà di legno, non? Ma per sculta, ma... C'è un limite alle bombe? Non lo intendo in totale Ah, va bene, puoi avere molte di più Sì Eh... Ovviamente 90 bombe su Non li useresti mai tutte No vabbè, 90 bombe C'è un match che è 60... Cioè 360 secondi Potrebbero tirarne fuori una ogni 4 secondi Un po' anche Oh no E anche se allora Non lo intendo 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 Bene Non lo intendo Non lo intendo È decisissimo Dioranza! Per prendere l'uno pari! Attenzione! Farà raccant difficoltà! Sane, voi quanto state? Vole pare anche voi. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Che cosa fai, prendere il 2, il 4, 3, 6... Pronto, io dico rotto. Oh no, che fallo! Che schifo! Che schifo! Che schifo, se sparo, s'ame la scio- Che schifo! Grazie a tutti 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 Perci Grazie a tutti Mario Grazie a tutti 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 No, perché Grazie a tutti 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 Grazie a tutti